Per la pesca sul fondo Valking propone due hardbait, questi due hardbait hanno un funzionamento molto simile ma possono essere utilizzati e sono attivanti per le trote in momenti differenti. Abbiamo lo Shine Ride che è questo lipless compatto che ci potrà portare a molte catture se è fatto saltellare sul fondo e invece abbiamo l'E-Warm che è questo vibration lure che potrà essere utilizzato o con un recupero lineare sul fondo oppure anch'esso saltellato. La caratteristica di questo artificiale è di produrre un altissimo numero di vibrazioni, questo in alcuni casi può spaventare i pesci, in altri può invece attivarli, mentre questo artificiale ha un nuoto più sinuoso e più semplice che potrà essere catturante nel momento in cui non lo è l'altro modello.